Gbg Radio Alternative Rock 20 e 50 ben sintonizzati il vostro Texas DJ in questa nostra serata in questo mercoledì 20 aprile 2022 stasera pre-rock il grande rock qui in grande spolvero con tante band tanti artisti ma prima di arrivare al pre-rock stasera ci buttiamo sul Midnight Configuration il brano si chiama Inquisition la band che è nata negli anni 90 si trova in Inghilterra Trevor Bamford Nick Hopkinson e essi formano questa band Midnight Configuration qui a Gbg Station è il nostro corso e il nostro corso è il nostro corso Grazie a tutti 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 Anzi 2019 Vediamo Bene 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 Ci sono anche Scarlett Moonschild Bamford quindi probabilmente è la moglie ovviamente di Bamford Got It Rock pure rock and roll in stile UK Deep Party UK con Hell's a Poppin Oh Grazie a tutti 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 21 e Grazie a tutti 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 And I will Grazie a tutti 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 I just Grazie a tutti 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 con il Grazie a tutti 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 Grazie a tutti